Presentata a Vittorio il Geoportale, la sala convegne e mai a curare la presentazione il sindaco Moscato e l'assessore all'umanistica Paolo Nicastro con l'aiuto dello staff dell'ufficio tecnico. Il workshop, ha dichiarato lo stesso Nicastro, vuole mettere a conoscenza di addette al lavoro e non degli strumenti in cui è dotato l'ufficio le sue potenzialità. Questo è un tassello della Smart City che l'amministrazione comunale è immaginata in campagna elettorale e per la quale sta lavorando anche grazie ad azienda urbana con oltre un milione di euro destinata alla digitalizzazione. Il Geoportale, rimarca ancora Nicastro, sarà quindi uno strumento di pianificazione utile e gratuita a disposizione di cittadini e professionisti. Poi Nicastro ha ringraziato i collaboratori, oltre al responsabile architetto Eterna, l'architetto Lorefe, ciòltre al geometra ricca, la signora De Caro, che sono spese a detto per la riuscita dell'evento. Una menzione di riguardo anche all'organizzazione del Coff Break, curata e realizzato all'Istituto Marconi, indirizzo alberghiero.